Il 12 agosto questa postazione sarà dismessa. Recita così un manifesto affisso su una postazione telefonica di Piazzale Matteotti. Proprio in questi giorni infatti anche a Pesaro, così come nel resto d'Italia, spariranno le ultime cabine telefoniche pubbliche attive da più di 70 anni. La team ha già da tempo affisso gli avvisi sulle postazioni e si appresta a dismettere le ultime poche decine rimaste in città. A sancire la fine dei telefoni in strada, ormai utilizzati rarissimamente, è una delibera della Gcom, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che consente a Telecom di rimuovere gli apparati. Insomma, team non è più obbligata a garantire il servizio pubblico e può cominciare a smantellarlo del tutto. Una fine che viene naturalmente motivata dall'utilizzo pervasivo dei cellulari, ma anche dei phone center per i cittadini stranieri. Dunque addio ad una tecnologia obsoleta per un nostalgico taglio ad un passato che va definitivamente in archivio.